Siccome l'abbiamo nominato, Edoardo Bennato, non ci resta che cantarlo. Ci proviamo! È stata tua la colpa? E allora adesso che vuoi? Volevi diventare come uno di noi. E come rimpiangi, quei giorni che eri, un burattino ma senza fili, e invece adesso i fili ce li hai. Adesso non fai un passo se dall'alto non c'è. Qualcuno che comanda e muove i fili per te. Adesso la gente di te più non riderà. Non sei più un saltimbanco, ma vedi quanti fili che hai. E' stata tua la scelta? E allora adesso che vuoi? sei diventato proprio come uno di noi. E a tutti gli agguati del gatto e la volpe tu avevi scampato sempre però adesso rischi di più. E adesso non fai un passo se dall'alto non c'è. qualcuno che comanda e muove i fili per te. Adesso che ragioni come uno di noi. i libri della scuola non te li venderai. Come facessi quel giorno per comprare il biglietto ed entrare nel teatro di manzo a fuoco quei libri adesso li venderai. Quei libri adesso li venderai. Vai, vai e leggili tutti impara quei libri a memoria. C'è scritto che i saggi e gli onesti sono quelli che fanno la storia. fanno la guerra la guerra è una cosa seria buffoni e burattini non la faranno mai.